Un nuovo grido di aiuto e di dolore è arrivato al consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, da parte dei residenti di un palazzo di Via Lazio a Montesilvano. A chiamare sono state le persone che abitano nello stabile ma anche chi risiede nelle abitazioni limitrofe. La situazione continua ad essere insostenibile anche a livello di igiene e sanità pubblica per via dei rifiuti presenti nei pressi dell'edificio. Io sono tornato qui dopo pochi mesi, sono stato un mese e mezzo fa, perché decine e decine di cittadini mi hanno chiamato piangendo a telefono. Sono tutti i cittadini di queste villette che stanno qui e non solo, anche i cittadini onesti del palazzo, dicendo che non possono uno dormire più la nostra perché fino alle 5 di mattina questi delinquenti e criminali che occupano abusivamente e vivono qui dentro fanno baldoria. Quando va bene gettano l'imbondizia dai piani alti, qui sul cortile potete vedere l'incuria, il problema anche di salute pubblica, quando va male gettano l'imbondizia all'interno dei cortili delle villette qui vicino. Quindi potete immaginare il cittadino onesto che deve svegliarsi la mattina per andare a lavorare, è costretto a rimanere sveglio fino alle 5 di mattina perché questi fanno baldoria e a vedersi gettare l'imbondizia dentro casa, bottiglie di vetro sparate dai piani altri sui tetti delle abitazioni vicine, è veramente indescrivibile. Qui si spaccia droga, ricordiamo che in un blitz di pochi settimane fa hanno trovato bossoli di calibro imponente all'interno delle abitazioni, bossoli di fucile, cioè qui non si scherza, non è che hanno i bossoli per giocare a carte, quindi c'è un problema di sicurezza e ordine pubblico. Allora io per la prima volta oggi chiedo anche un'unità fissa H24 di polizia anche qui in via Lazio 61 a Monte Silvano presso il palazzo La Vergogna fissa come lo chiedevo per il ferro di cavallo perché è una zona a rischio, anzi forse più del ferro di cavallo di Pescara. Chiedo lo sgombero immediato di tutti gli occupanti abusivi perché qui ci sono più occupanti abusivi che assegnatari onesti e una rigenerazione immediata di questo stabile perché non può stare più in queste condizioni. Qui la proprietà è del comune di Pescara e insiste sul territorio di Monte Silvano, quindi di concerto le due amministrazioni devono mettersi una mano sulla coscienza e intervenire perché non c'è più tempo da perdere. Le chiacchiere ne hanno fatte tante, le promesse, promesse sgombereremo, faremo, solo promesse. I cittadini onesti non possono vivere più in questo Tugurio pericolosissimo. Quella di oggi è l'ennesima visita che lei compie qui in Via Lazio a Monte Silvano? È l'ennesima visita ma sono amareggiato perché tanti cittadini hanno paura, c'è molta omertà e qui c'è solo un cittadino a fianco a me. L'unico cittadino coraggio che ha subito anche delle minacce assieme a me per gli interventi che abbiamo fatto in passato. La gente deve scendere in strada se vuole che si cambiano le cose, deve venire qua assieme a noi. Ricordiamolo in altri quartieri a Pescara avevamo 80 persone dietro, i problemi sono stati risolti. Qui non c'è nessuno, c'è solo un cittadino, non si possono risolvere così i problemi. Ecco, invito quindi i cittadini a fare squadra e a stare a fianco a noi.